la prima cosa che dovremmo fare ora è lavarci le mani abbiamo trovato nel pacco di evri dei sicili questo che è un sapone a latte d'asina dovrebbe essere molto buono è tutto prodotto in sicilia tutto fatto dai nostri conterranei ed è un prodotto super naturale della società agricola pane carina anche la confezione ho letto che il latte d'asina ha degli effetti idratanti benefici è molto naturale quindi non avrà a fare a beni e quindi non provocherà sicuramente allergie vediamo se fa buon profumo devo adorare è un profumo molto naturale appunto perché le cose troppo profumate non andiamo a provare il nuovo sapone al latte d'asina allora proviamo il nostro sapone con la mamma mia ok ma è molto fa tanta schiuma no non ne fa schiuma quindi è perfetto olga provalo anche tu tu che sei piccola ragazzi la prova della schiuma c'è cioè non fa schiuma quindi dovrebbe essere veramente super naturale vai provate tutte sai perché mi piace perché tipo ti va ad idratare le mani secondo me si fa pure da crema ora si 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 le sento molto morbide tra il latte d'asina non avevo idea che odore avesse e comunque lascia tutte le mani molto più morbide meno strepolate di prima consigliato vai asciuga le manine vediamo come il risultato come sono morbidissime quindi anche idratante lo voglio